Prendo atto delle nomine degli assessori della giunta regionale che escludono dal governo della regione i cittadini lucani e le forze politiche che hanno costruito con il presidente Pittelle risultato elettorale sin dalla consultazione delle primarie. E questo è il commento dell'esponente di Centro Democratico Nicola Benedetto all'indomani della nomina del nuovo esecutivo regionale. Nell'auspicare una soluzione tesa ad evitare un governo solitario in un momento delicato in cui la Basilicata ha bisogno di vera unità e condivisione di progetto per portare a compimento le importanti riforme, il programma che, afferma, abbiamo condiviso quei partiti della coalizione col presidente Pittella, Benedetto spiega che successivamente all'intervento di insediamento del nuovo governatore valuterà e esporrà dettagliatamente in quella sede le sue motivazioni, decidendo, conclude, quale sarà l'atteggiamento di Centro Democratico nei confronti della nuova giunta.